Salve a tutti utenti del canale Spazzo Games, sono Dr. Mirax, oggi continuiamo l'analisi armi Black Ops 2 portandovi l'arma più citata nei commenti dell'episodio speciale di balestra e coltello balistico. Parliamo appunto dell'M27. Dunque l'M27, come ben sappiamo, è un fucile d'assalto, quindi i fuciili d'assalto cosa hanno e che li caratterizzano? Elevata portata del colpo, quindi lunghe distanze alla quale riuscire a uccidere i propri nemici, danno elevato e soprattutto potenza del fuoco, quindi comunque danno che di solito risulta essere di pochi colpi per uccidere l'avversario. L'M27 rientra, come sappiamo, nella categoria di fucile d'assalto e è una delle armi, a mio parere, migliori disponibili già da subito, perché l'M27 lo trovate già immediatamente in una delle classi predefinite, perciò avrete solito possibilità di usarlo anche se siete a livelli più bassi. Però è un'arma secondo me che è tra i primi posti, quindi sicuramente tra i primi tre fucile d'assalto del gioco, sicuramente dopo la N e l'M8. Comunque l'M27 cosa ha di buono? Innanzitutto non ha praticamente rinculo, perché anche utilizzando qualsiasi tipo di accessorio che vada a evitare rinculo, per esempio un calcio, un'impugnatura, comunque in ogni caso il rinculo sarà totalmente assente. Devo dire solo una cosa magari lievissima, proprio molto molto lieve verso l'alto, ma secondo me è una cosa che non deve affatto scoraggiarvi nel giocare tranquillamente le vostre partite. La portata è buona, i danno anche qui buono, però secondo me ce ne sono di migliori, quindi rispetto all'N l'M27 è su un altro pianeta, è molto minore il danno rispetto ai fucili d'assalto più potenti, come appunto proprio l'N stesso, per esempio anche lo SCAR che andremo ad analizzare in un episodio futuro. Comunque l'M27 ha di buono che praticamente, come già detto, non ha rinculo, quindi in ogni caso voi starete tranquillamente sulla linea di tiro senza dover intervenire col dito sul vostro pad. Dunque, l'arma, intanto vi rilusto anche la partita, che è un dominio su Covo, quindi un'altra mappa del DLC Vengeance, che ormai è uscito da un po' di tempo, da un mese per Xbox e da pochi giorni anche su PS3. Dunque l'M27, qui lo avete anche con mimetica Drago. Cosa dire ancora? Beh, come vedete lo utilizzo col silenziatore, questo poi andremo a vederlo dopo, è secondo me l'accessorio più importante assieme al calcio regolabile che si può mettere su un M27. Quindi l'M27 è decisamente molto, diciamo, facile a utilizzare in mappe con spazi aperti. Certo, se potreste anche trovare il silenziatore potreste anche usarlo in mappe piccole, quindi per esempio mappe come Rush, eccetera, eccetera. Però sappiate che il tempo di ricarica dell'arma è piuttosto lento, quindi magari non è molto comodo poter utilizzare in mappe piccole, quindi in mappe dove avete decisamente pochi istanti per prendere una decisione su che mossa effettuare e di conseguenza anche le conseguenze rispetto alla decisione da voi presa saranno più o meno gravi. Quindi se lo decidete di ricaricare con un certo numero di nemici in una mappa piccola, siete finiti. Se decidete di ricaricare comunque con un caricatore non rapido, ma quello normale che è molto lento, in una mappa grande, con qualche nemico avrete decisamente più tempo e più possibilità, più chance di uccidere i vostri avversari. Detto questo passiamo alle mappe. Allora le mappe, come sapete, come vi ho detto proprio in questi istanti, a mio parere sono da preferire quelle grandi, perché comunque nelle mappe piccole il tempo di ricarica non favorisce decisamente l'arma. Quindi le mappe grandi per esempio abbiamo Cove, ma io qui come sempre vi inserisco le mappe standard, per esempio Aftermath, che in questo caso è una delle poche mappe in cui si può utilizzare quest'arma, una delle poche volte in cui vi inserisco questa mappa tra le preferite, tra i migliori, oppure per esempio anche sempre nei deciliengiati abbiamo Detour. Quindi comunque mappe che presentano spazi ampi e possibilità, diciamo, maggiori di poter sopravvivere a un attacco di punimige anche quando si è con arma scarica. Poi passiamo alle classi. Quindi le classi che noi utilizziamo per M27 sono varie. Io qui vi porto la mia tipica standard classe che utilizzo nei multiplayer. che prevede un M27, come vi ho detto con il mirino, scusatemi non il mirino, con il silenziatore e qui vi porto la classe standard che utilizzo io nei multiplayer. Quindi un M27 normalissimo con semplicemente il silenziatore e il calcio regolabile. Perché uniamo la rapidità di movimento assieme anche la danno. La potenza del ramo col silenziatore secondo me è molto più grande e valida rispetto all'arma non silenziata. Poi cos'altro aggiungere? I perk come sapete sono quelli per come essere il silenziatore unito a fantasma. Anche qui poi magari ognuno può farsene come vuole. Io vi consiglio semplicemente le mie con le quali mi trovo decisamente meglio a giocare. Quindi abbiamo il nostro fantasma, abbiamo inflessibile, abbiamo acciaio, abbiamo sciacallo con sempre il C4 a supporto. Un'altra classe che mi parere è molto buona è un'arma sempre con il silenziatore però aggiungendoci anche un mirino reflex e ovviamente il calcio regolabile. Con ovviamente il fatto che andando a inserire il nostro terzo bonus sull'arma andremo o a perdere o comunque a perdere qualcosina nei perk. Quindi avremo per esempio potremmo metterci un inflessibile, anche qui un fantasma, comunque possiamo abbinare il silenziatore, un silenzio di tomba come vedete qui, magari anche il C4 o comunque una Betty. Anche lì poi comunque la scelta è molto varia però devo dire che a me l'arma piace molto di più col silenziatore che senza. Infine abbiamo l'ultima classe, togliendo il silenziatore possiamo mettere per esempio un calcio regolabile, una stazione rapida e anche un mirino reflex. Qui uniamo precisione e rapidità del movimento. I bonus, quindi i perk, qui non sono per evitare di farvi sentire, quindi non abbiamo silenzio di tomba, per esempio abbiamo destrezza, abbiamo leggero, abbiamo anche acciaio oppure anche shakara perché comunque al 27 vi richiede, essendo comunque vi richiede un certo numero di colpi per uccidere il nemico dovrete secondo me anche spesso andare a rifornirvi dai pacchetti di armi lasciati da nemici quando li uccidete. Bene, con questo si conclude l'episodio. Concludiamo semplicemente sfoggiando le caratteristiche dell'arma 27 che è decisamente molto precisa e questo è dovuto al fatto anche a seconda cosa positiva è che c'è una totale assenza di rinqueo quindi entrambi questi aspetti si uniscono per dare un effetto devastante a quest'arma. Passiamo agli aspetti negativi, se nei aspetti politi abbiamo facilità di uccidere i nemici da lunghe distanze e elevata precisione quindi possiamo non dire però questo del danno perché il danno è molto basso se andiamo a compararlo come già detto con una N, con un M8 quindi ci vuole decisamente molti colpi per uccidere il proprio nemico specialmente come nel mio caso se usate il silenziatore. Certo anche una buona connessione vi può favorire, questo devo ammetterlo anche se usate il silenziatore come nel mio caso. Quindi sta a voi a scelte in base alla vostra connessione, in base anche all'host che gestisce la partita, quanto sia buona la vostra connessione in quel momento quindi scegliete un pochino, valutate e decidete quale classe sia meglio se sconno senza silenziatore con un perk piuttosto che un altro e viceversa. Quindi detto questo possiamo dire che anche l'ultima caratteristica è sicuramente il tempo di ricarica lento perché è veramente veramente snervante per anche le caratteristiche che vi ho elencato precedentemente. Con questo concludiamo questo episodio quindi vi ringrazio ancora per aver visto questo video, vi ricordo come sempre di lasciarmi un like, un commento sulla vostra classe preferita, come lo usate, se vi divertite a usarlo, se lo trovate meglio o peggio di una alt'arma. Vi ripeto che per me è il terzo fucile d'assalto quindi va direttamente sul podio dopo la N e la M8. Comunque fatemelo sapere con un commento e noi ci vediamo presto con il prossimo episodio dedicato all'analisi classi per Call of Duty Black Ops 2. Qui dottor Mirax e un ringraziamento a tutti. Ciao!